Musica Giovedì 17 dicembre, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa Ok Giornali che come tutte le mattine comincia con il santo del giorno e lo facciamo anche oggi, vediamo il santo di oggi oggi è San Giovanni di Matta, è stato un sacerdote, il sole è sorto alle 7.36, tramonterà alle 16.32 il tempo per oggi, giovedì 17 dicembre, cielo sereno e poco nuvoloso presenza durante le ore più fredde della giornata di foschie o nuvole basse sui settori pianeggianti le temperature sono senza variazioni di rilievo, i venti nord-occidentali per domani, venerdì 18 dicembre, anche qui domani avremo una giornata serena e poco nuvolosa con temperature senza variazioni, sabato, sabato anche qui giornata parzialmente nuvolosa con nuvole basse che daranno luogo a nebbie diffuse questo sabato 19 temperature anche in questo caso senza variazioni la giornata di domenica sarà caratterizzata dalla persistenza di nuvole basse le condizioni di forte stabilità continueranno poi almeno per la prima parte della prossima settimana direbbe Vianello e Sandra Mondaini che barba che noia che noia che barba un tempo così è veramente monotono ma comunque lo prendiamo così come viene allora andiamo adesso a leggere i giornali, cominciamo dal resto del Carlino ho dovuto rimandare il funerale, mia moglie tre giorni in cella frigorifera un pensionato chiede contributi al comune che però gli ha risposto ora non possiamo il comune gli ha detto che lo aiuterà a pagare le rate degli 800 euro che è il debito con le pompe funebri senza un acconto lì presa funebre non era disposto a fornirmi racconta lui la bara poi sono riuscito a pagare questo acconto è la storia di Roberto Bacchiocchi che è il marito di questa signora deceduta Carla Tagnani è deceduta dopo una lunga malattia tra l'altro domenica solo oggi però si potrà celebrare questo funerale oggi pomeriggio alle 16 era in programma martedì scorso ma il marito lo ha dovuto rinviare appunto perché non aveva soldi per pagare questo funerale occhio alla truffa dell'incidente occhio alla truffa dell'incidente spesso sicuramente sarà capitato anche a molti di voi visto che in tanti ci avete scritto segnalato di aver ricevuto queste strane telefonate nelle quali dall'altra parte del telefono c'era qualcuno che diceva signora sua figlia oppure suo figlio è grave telefonano agli anziani poi tentano di spillargli del denaro poi fanno finta che lì ci sia un carabiniere o comunque ci siano dei carabinieri c'è stato uno schianto dicono un incidente deve risolvere problemi con l'assicurazione altrimenti eccetera eccetera ecco questa è la truffa la cosiddetta truffa dell'incidente quindi se vi dicono bisogna stare attenti cercate insomma di comunque quando vi chiedono soldi state tranquilli che c'è sempre qualcosa che puzza dietro quindi non abboccate oppure fate finta di abboccare e poi chiamate subito i carabinieri e mandate i carabinieri a chiudere tra virgolette la questione andiamo adesso invece avanti la pagina di Fano del resto del Carlino parla e punta l'attenzione sugli stranieri presenti in città sono 4.513 la carica degli stranieri abbiamo 55 richiedenti asilo per ora la fotografia scattata dall'assessore Marina Barnesi sempre su questo articolo nel territorio l'incidenza degli immigrati è quasi l'8% in Italia si ferma al 7,4% e poi qui di spalla quando l'emigrante è donna adesso la pagina sempre di Pesaro invece sempre del Carlino sullo sciopero solo i medici di famiglia sono stati attirati dallo sciopero hanno partecipato secondo le stime 75% in ospedale adesione invece al 20% ma i disagi comunque ci sono stati tra l'altro ci sono state anche delle operazioni chirurgiche rimandate regolari le attività nei laboratori analisi e nella maggioranza dei reparti banca marche la questione banca marche operai, giovani coppie, imprenditori quelli che hanno perso tutto sono 60 i casi, storie e denunce seguite da un'associazione di consumatori famosa Adusbef operai appunto come dicevo non si salva nessuno dal naufragio di banca etruri e banca marche fioccano le querele fino ad ora stiamo trattando una sessantina di casi ed è fuorviante far credere a queste persone danneggiate che si possono fare azioni di gruppo non è possibile e chi lo fa compie un'opera di sciacallaggio attenzione è importante questo che viene indicato sul giornale di questa mattina non si può secondo Adusbef è fuorviante far credere a queste persone danneggiate che si possono fare azioni azioni di gruppo quindi non è possibile chi ci ha rimesso? ci ha rimesso l'intero rimborso avuto per esempio per un grave infortunio stradale che l'aveva costretto anche a diversi interventi chirurgici questa è una delle tante storie uno ha avuto un incidente ha avuto un rimborso ha depositato i soldi in quella banca e adesso ha perso tutto dovrebbe dire no? oltre il danno eccetera insomma la beffa eccetera eccetera va beh andiamo adesso sul Corriere Adriatico dalla pagina di Pesaro Urbino l'albero della discordia questa volta l'albero della discordia non è quello di Fano che invece vista comunque come è andata ormai penso abbia messo d'accordo un po' tutti qualcuno anche quelli che avevano criticato inizialmente l'albero di Natale hanno detto beh sì insomma io preferisco quello vero però tutto sommato anche questo qua non è male invece a Urbino adesso la questione è un po' più delicata l'albero della discordia arriva addirittura in televisione in un programma televisivo che si chiama Ballarò Sgarbi che è assessore al comune di Urbino oltre che critico d'arte ormai famoso in tutta Italia mostra l'immagine e dice una macchina del terrore scambio di ultimatum verso la rottura con i verdi quindi diventa proprio un caso un caso politico i 5 stelle una vergogna veicolato il messaggio che nella città UNESCO si compiono degli abusi a Fossombrone invece sull'ospedale ospedale Ceriscioli cambia idea a Fossombrone 40 posti letto nuova risonanza magnetica e punto di primo soccorso H24 cioè 24 ore su 24 ecco quanto ha assicurato il Presidente della Regione al Vice Sindaco Michele Chiarabilli la pagina di Fano invece del Corriere Adriatico Arzilla a rischio subito interventi forte l'incognita allagamenti pressioni su provincia e regione tutto il Consiglio vota sì l'ok anche dai 5 stelle che criticano però la modalità delle emozioni utilizzata dalla maggioranza poi sulla questione dell'autonomia dell'Istituto Battisti Carloni si appella all'assessore Bravi rivedete una decisione tutta tecnocratica dice il consigliere fanese di alleanza popolare almeno per il prossimo anno lasciate le cose dice Carloni chiede Carloni così come stanno poi sull'altra pagina di Fano del Corriere Adriatico Odissea per avere un codice PIN mille giri per scoprire che la richiesta va fatta allo sportello veloce chiuso da mesi parliamo degli uffici IMS la storia del genitore di un ragazzino disabile in attesa del riconoscimento dell'invalidità del minore il gigantesco albero di Natale di Fano donato in miniatura al sindaco di Aosta l'omaggio consegnato da Paolo del Signore l'artista che lo ha decorato poi nuovo sindaco sarà una cavalcata per tre siamo a Mondolfo liste per il Partito Democratico Centrodestra e 5 Stelle ma c'è anche la variabile di una lista che si chiama Made in Marotta papabili per il PD Mario Silvestrini e Massimiliano Lucchetti ma c'è anche il socialista Alvise Carloni a Cartocetto Dondero affascinato dal paese partita alla ricerca delle sue testimonianze sul paese che lo premiò come cittadino onorario nel 2007 Andreoni del nostro territorio ha fotografato luoghi angoli nascosti e persone della vita comune era stato insignito Mario Dondero scomparso qualche giorno fa 87 anni era stato insignito della cittadinanza onoraria appunto nel 2007 stiamo scoprendo il legame profondo che appunto lega il nostro comune e la nostra gente a questa figura una delle figure più originali del fotogiornalismo il cui funerale si è svolto ieri a fermo sua città adottiva andiamo avanti con la rassegna stampa velocemente anche la pagina in Senigallia solo il titolo principale Natale sicuro controlli rafforzati il commissariato alza la guardia e intanto con i mercatini arrivano nuove restrizioni al traffico e la pagina invece di Pesaro punta l'attenzione sul complano di Rossini e sul lavoro che sta effettuando il sindaco Matteo Ricci con Giovanotti Giovanotti che ha incontrato l'altro giorno sta cercando Ricci dice ti vorrei nel progetto della città della musica e pensa al centocinquantesimo del cigno adesso sul messaggero invece il messaggero alla pagina di Pesaro ex Amga ancora un mese per bonificare il terreno inquinato nuovi dati il benzene resta sotto i limiti ma i residenti presentano altre denunce con le foto dei cumuli rimossi poi l'altra pagina invece sull'ex Bramante l'ex Bramante si vende fondi per il Santa Marta alle battute finali la trattativa della provincia per cedere per 4 milioni e mezzo lo stabile che per ora ospita uffici pubblici con l'incasso ricavato da questa alienazione si potrà procedere a ripristinare a risistemare il complesso che appunto ospita l'istituto alberghiero sotto banca Marche i consumatori raccolgono le denunce e poi concerto alla Rossini in aiuto della lotta contro l'infarto l'altra pagina andiamo a vedere questo albero della discordia di cui parlavamo prima eccolo qua molti ormai lo ricorderanno insomma questo albero a rubino fa perdere altri pezzi alla maggioranza del comune l'interrogativo roesta si smonta oppure no Gambini che è il sindaco dice la vigilia di Natale arriverà sgarbi e quindi decideremo se tirarlo giù se smontarlo oppure no intanto il popolo dei social come sempre si scatena ironicamente e invita tutti in piazza la sera del 24 alla rissa finale quindi insomma intesa come rissa finale allora sulla pagina di Fano invece abbiamo solo mezza pagina l'altra è pubblicitaria quindi mezza pagina per la cronaca di Fano in evidenza il comune che mette mano alla macchina organizzativa in previsione taglia il numero dei direttori in tre mosse la trattativa con i sindacati tra cui 100 mila euro per il fondo di produttività sul tavolo del sindaco Seri e degli assessori una proposta che prevede la reintroduzione delle figure come le Apo poi c'è questa novità per quanto riguarda i parcheggi a Fano quelli gestiti da Aset Bancomat e carte di credito adesso per pagare la sosta blu cioè dove c'è la sosta a pagamento a Fano lo avevano annunciato adesso diventa realtà dunque a Fano la sosta blu può essere pagata anche con carta di credito e Bancomat avvicinando così la città a Pesaro non è necessario digitare codici l'alternativa dunque alle monetine è già in vigore ed è stata avviata per modernizzare le modalità del parcheggio a pagamento a Fano poi questa sera attenzione sempre sul Corriere Adriatico eccolo qua questa sera per quanto riguarda il Carnevale c'è la prima estrazione stasera durante occhio alla notizia delle 20 e 30 scrive il messaggero il nome del socio del primo fortunato socio dell'ente carnevalesca che vince un posto al getto cioè sul carro potrà salire quindi su un carro allegorico del Carnevale nella prossima edizione del 2016 durante una delle domeniche il 24 31 gennaio oppure 7 febbraio quindi questa sera alle 20 e 30 nel corso del telegiornale se avete fatto la tessera dell'ente carnevalesca so che ne hanno già fatte quasi 500 in pochissimi giorni quindi tra questi questa sera alle 20 e 30 in un momento del telegiornale apriremo una finestra ci collegheremo in diretta con la sede dell'ente carnevalesca a Fano e faremo l'estrazione di questo fortunato vincitore che potrà salire sul carro e quindi vivere l'emozione del lancio del getto che è un'emozione unica io mi fermo qui grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.